Non preoccupa il caso tanto discusso nella città di Agropoli dell'uomo posto in isolamento in seguito ad un test sierologico risultato positivo. L'uomo di Agropoli ha un'occupazione che lo porta ad avere contatti con il pubblico e, come da prassi, è stato sottoposto dall'azienda per cui lavora al test sierologico che ha dato esito positivo. Per precauzione per lui è stato disposto l'isolamento, ma non ci sono sospetti riguardo a un possibile caso di coronavirus. I test sierologici durante questa emergenza hanno evidenziato più volte quanto siano inattendibili nei loro risultati con vari falsi positivi anche nel Cilento e stesso ad Agropoli, in quanto rilevano gli anticorpi generici dei coronavirus e non esclusivamente quelli legati al Covid-19. L'uomo, prima di quest'esame, aveva svolto anche un test di sua spontanea volontà che ha dato esito negativo e svolge una vita riservata senza aver avuto contatti. Ciò preclude anche altri ipotetici contagi. Nessun allarme quindi all'uomo verrà effettuato il tampone per escludere totalmente un'ipotesi di contagio lontanissima.